Anza, Roma, 21 dicembre, un politico si fa giudicare dai cittadini quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Boschi debba tornare in Parlamento. E' una discussione che non esiste. Lo dice il segretario del PD Matteo Renzi in un'intervista a TG con 24, rispondendo a una domanda sulle richieste di dimissioni di Maria Elena Boschi.